Ciao cari amici! Prima di iniziare il nostro cammino siamo a San Francesco che ci accompagnerà fino alla torre di Padre Pio, fino alla Corte di Sioni. Da questo posto vi ricordiamo e la speranza anche che il meteo ci aiuti in questi giorni. Un buon cammino da Dario! Ciao a tutti! Grazie 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 a tutti!